Un'altra giornata di dampone su Bitcoin, ci dobbiamo preoccupare sì o no a che punto siamo di questa zona rialzista. Nell'ultimo video, quello precedente a questo, vi avevo parlato dell'indicatore di eccesso, di rialzo e della necessità in sostanza di Bitcoin di fare un po' di noia, cioè barra di congestione laterale ribassista, sembra che il mercato mi abbia effettivamente ascoltato perché guardate per esempio il dato relativo all'indicatore di eccesso di rialzo come sta andando a riassorbirsi esattamente non toccando quella linea rossa, la linea di demarcazione con fase di euforia importante. E quindi questa zona di ribasso tutto sommato è una zona che può essere accettata come una zona forse anche benvenuta, diciamo così, da un punto di vista di eccesso e di rialzo, però come in tutte le cose una miccia, anzi un grande fuoco, si accende sostanzialmente da una miccia. Quindi bisogna sempre, sempre, sempre fare attenzione ai segnali di questo tipo perché potrebbero magari poi dare la fase iniziale appunto a ribassi un pochettino più prolungati. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un'analisi di quello che sta succedendo in questo momento, un'analisi relativa a questa fase di pausa di pochissimo giorno, insomma sono due giorni che sta facendo Rossi Bitcoin in questo caso e tra le altre cose sono anche benvenuti meno 2,27 nella giornata di ieri, 14 di marzo e meno 5,10 nella giornata di oggi, 15 di marzo. Quando sto registrando, sto registrando in mattinata ragazzi, quindi voi questo video lo vedrete probabilmente nel pomeriggio, però in questo momento la giornata è ribassista. C'è anche un dato, da farvi vedere, un dato storico relativo a questo tipo di comportamento che risale a tantissimi anni fa. Voglio però farvelo vedere perché c'è una congiunzione anche da un punto di vista di tempi ciclici importanti con questo tipo di atteggiamento, di questo indicatore e anche del mercato in questa fase. E ve lo faccio vedere alla fine del video, come sempre. Partiamo da quella che è la struttura di questa fase ribassista, parlando di analisi tecnica, a meno di analisi ciclica di cui parleremo. Poi nel video di lunedì, in maniera estremamente più accurata, l'analisi tecnica in questa fase ci dice una cosa. Le due medie mobili, livello di supporto in questo caso che stanno ancora tenendo e che avevano tenuto anche nella precedente fase ribassista, indicano che questo trend che è iniziato dal gennaio del 2024 non è mutato. Questo trend è ancora completamente identico al precedente. Queste fasi ribassiste di due giorni sul mercato delle criptovalute non ha modificato in alcun modo il trend iniziato da gennaio 2024, seppur ovviamente lo ha un po' leggermente incrinato, ma se rimane in questa condizione, se rimane strutturato in questo modo all'interno di queste due medie mobili che fungono in questo contesto da livello di supporto, anche a dire la verità, un leggero tentativo di breakout della media inferiore, una media a 21 e 11 periodi, ve li faccio vedere, sono medie mobili semplicissime ragazzi, a 11 e a 21 periodi, non c'è mai stata un'analisi matematico-statistica che riguarda per esempio i sistemi di trading che ha validato le medie mobili esponenziali in maniera migliore rispetto a quelle semplici, anzi a dire la verità, in alcune situazioni nonostante a livello matematico le medie esponenziali siano migliori, da un punto di vista invece di mercati di trading sembrerebbe che agiscano meglio quelle semplici e questi dati sono anche legati al fatto che questi tipi di indicatori usati su mercati aleatorie estremamente rumorosi come i mercati finanziari non possono essere considerati in termini prettamente matematici e basta, bisogna anche vedere un po' l'aderenza al mercato eccetera, quindi non c'è in realtà una validità nell'una e nell'altra, quindi potete usare anche le medie esponenziali con tranquillità non cambia niente e mi trovo meglio con le semplici e anche visto il contesto in cui le andiamo a utilizzare non cambia nulla perché non sono segnali operativi ma segnali di indicazione. Questa zona è una zona di supporto e lo è stata, vedete, anche in questa fase qui, anche in questo contesto vi dicevo lo smoothing, quindi il breakout leggero della media a 11 periodi non cambierebbe sostanzialmente nulla, ma solo in questo contesto poi da qui, vedete, le due medie sono diventate ancora supporto e poi breccate in questo contesto diventano poi un'area di resistenza. Siamo ancora lontani quindi da un'inversione di trend anche di breve periodo, non è cambiato assolutamente niente, tra le altre cose vi faccio notare anche un grafico estremamente interessante, cioè il grafico che noi utilizziamo in Academy per quanto riguarda i cicli inferiori a quello mensile, quindi i cicli legati al 3, in questo caso si chiama, ragazzi, da un punto di vista di analisi cicli, quindi quelli settimanali, diciamo così, in questo caso sono un po' più lunghi, considerate che i cicli già sono di loro molto volati, in una direzione standard molto alta, cioè i cicli più scendiamo di fase temporale, quindi più diventano brevi, peggio è, quindi bisogna essere estremamente bravi nell'utilizzo di questa analisi e di questa tecnica, non prendendola mai alla lettera, non andando mai a irrigidirla con delle regole precise, perché è una tecnica un po' più qualitativa che quantitativa, perciò è più difficile, ragazzi, andare a dare delle regole standard di durata, ecco, questo è il discorso, non ne parliamo tanto spesso un po' nel canale YouTube, perché avrebbe poco senso per chi magari non è esperto in questa tipologia di analisi, veramente, poi si confonde, insomma, addirittura potrebbe peggiorare la propria operatività, quindi non lo ritengo una cosa corretta, insomma, ecco tutto qui. Però in linea di massima volevo farvi vedere una cosa, nell'ultima struttura ciclica che è durata una decina di giorni circa, che è andata poi a chiudere in questa fase, il mercato ha fatto un ribasso del 14 circa per cento, adesso non sto lì a mettere l'euro, e in questo caso la struttura di ribasso è stata dell'11%, quindi inferiore al precedente, se ha chiuso così, perché il problema è che ancora non abbiamo idea, da quando sto registrando, se questo momento ribassisse è terminato, o debba ancora fare uno slancio al ribasso, magari nel pomeriggio di oggi, per chiudere questa cosa. Comunque, volevo farvi vedere al momento, se dovesse confermare la chiusura di questo movimento in questo modo, comunque in ogni caso il ribasso di questi due giorni è un ribasso normale, facente parte di quello che è un andamento standard di Bitcoin negli ultimi tempi, anzi, a dire la verità, è inferiore al precedente, quindi è meno impattante, se è finito ovviamente, bisogna capire se è finito, ancora questo non lo sappiamo. Ciò lascerebbe anche spazio, teoricamente, a un'eventuale ripresa, addirittura con tentativi di fare nuovi massimi, questo perché, come si vede da un punto di vista non ciclico, di trend del mercato, anche su time frame brevi come questo, che è 90 minuti, non è stato intaccato in alcun modo il trend. In questo caso le medie mobili non sono le stesse che avete visto, sono di periodo diverso, ragazzi, però a parte questo non le utilizziamo nello stesso e identico modo, qui si utilizzano in maniera leggermente differente, sono più tecniche in questo caso, però da un punto di vista di pricing, partendo dai minimi e andando sugli altri minimi successivi, viene e si evidenzia come il trend è rimasto con minimi crescenti, in questo caso, se questo punto è terminato, ancora non lo sappiamo, lo ribadisco, e massimi crescenti, quindi se questo livello sancisce il minimo di questa fase e ci sarà un'eventuale ripresa nei prossimi giorni, tutto porta addirittura a un tentativo di testare nuovi massimi. Ora, l'unico modo affinché questo non avvenga è che questo minimo non regga, ragazzi, cioè questo è il discorso, cioè questo minimo deve messerci magari l'imbarzo del gatto morto e poi viene breccato, a quel punto ci sarà un'inversione di trend e quindi questi saranno i nuovi ATH di Bitcoin per un po' di tempo, magari qualche mese o qualche settimana, insomma, giù di lì. Ancora da un punto di vista tecnico, quindi di analisi tecnica, anche su questo grafico, si evince che questo movimento ribassista non è così tanto prolungato. Poi volevo farvi vedere due grafici che sono invece, richiamano un po' più il lungo periodo, in particolare prima di passare appunto a vedere questo dato storico qui, che cosa ci sta dicendo e come si era comportata storicamente vicino a questo livello di eccesso, l'ha fatto solo una volta, di solito lo brecca e se ne va, ma questo è un mercato molto forte che richiama anche periodi storici leggermente diversi rispetto ai precedenti. Volevo farvi vedere questo grafico perché volevo proiettare la vostra attenzione sull'importanza della conferma dei segnali con la chiusura delle candele, in questo caso relative al pay frame. Questo è il settimanale. Ragazzi, guardate qui. Allora, sul settimanale non avviene il breakout dei 70.000, quindi se dovessimo effettivamente ragionare in questo modo, abbiamo avuto il breakout dei massimi storici di Bitcoin che in chiusura erano 65.500 a livello settimanale, ma non abbiamo il breakout della resistenza psicologica dei 70.000 perché la conferma settimanale in questo caso non è avvenuta. Poi ovviamente oggi è venerdì, ma ancora sabato e domenica tranquillamente Bitcoin può tentare di recuperare i 70.000 entro la domenica, entro questa domenica. Però al momento questo tipo di breakout non è avvenuta. Tra le altre cose, la candela settimanale è una candela molto particolare perché questa è una figura che indicherebbe il termine se così fosse confermata. Ancora, vi ripeto, mancano venerdì, pomeriggio, sabato e domenica, però se è così confermata potrebbe essere questa figura di analisi tecnica che adesso vi faccio vedere. Allora, ecco le ragazzi, Living Star classica. Questa figurazione che si va a creare, tra le altre cose, se confermata, su un grafico di natura settimanale è negativa perché si potrebbe andare ad innescare una struttura di correzione. Di questo argomento ve ne parlerò nella prossima settimana. Perché? Perché questa fase attuale inizia ad essere delicata. Per me è ancora troppo prematuro, cioè troppo presto perché avvenga una fase di correzione. Però nel video di cui vi avevo parlato, cioè quello della possibilità che Bitcoin potesse fare nuovi ATH pre-Halving e poi fare una fase laterale di un po' di giorni, quasi un centinaio di giorni, proprio in vista dell'Halving, si sta andando a verificare. Però, prima di, insomma, definire in maniera netta che, diciamo, da qui in poi si passa ad una ATH ormai disegnato che poi resterà per qualche mesetto, magari così, e non verrà più intaccato da Bitcoin, dobbiamo ragionare su una serie di cose. Però questo tipo di pattern, se così si andrà a creare, intanto bisogna aspettare domenica per vedere se si va a creare una candela di questo tipo e poi nella prossima settimana deve essere confermata come? Con il breakout dei minimi che si vanno a creare. Quindi, in pratica, noi dovremmo andare a vedere questa candela se si crea come un evening star e poi andare ad attendere il breakout eventuale la prossima settimana dei minimi di questa candela. Quindi, c'è ancora tanto tempo e ne dobbiamo parlare poi lunedì per questa cosa. Però volevo anticiparvi questa possibilità. Io, al momento, sono dell'idea che il mercato possa ritentare comunque un allungo sugli ATH. Non mi suonano a tempo ciclico alcune cose fino ad almeno a fine mese di aprile e questo il mio dubbio. Sto ancora ragionando su queste cose però io se dovessi avere una propensione avrei ancora la propensione per il tentativo di Bitcoin di riprovarci nuovamente ad avvicinarsi verso gli ATH. Cioè, da dire che dal punto di vista tecnico come vi ho fatto vedere precedentemente nulla è cambiato quindi analisi tecnica non ci dà segnali in questo momento che potrebbe succedere una catastrofe detto tra virgolette sempre catastrofe scherzando ragazzi ecco parlo sempre di una correzione normale salutare forse per il mercato questo tipo di dato sulla creazione della Evening Star sul grafico settimanale è una analisi molto potente deve essere assolutamente tenuta in considerazione alla fine della prossima settimana quindi da domenica in poi ne parleremo e se avviene questo invece è un'indicazione negativa che però ovviamente cosa succederà che la conferma dell'Evening Star romperà i nostri livelli di analisi tecnica delle due medie mobili invertendo palesemente il trend anche sul daily quindi perché affinché questa Evening Star venga confermata noi dovremmo avere un'inversione comunque prima su questo grafico quindi lo vedremo prima un atteggiamento del genere al momento risulta tutto parte di questa struttura niente di strano se dovessimo andare a chiudere un ciclo mensile dovremmo farlo entro la prossima settimana quindi potremmo avere una settimana di debolezza se il ciclo mensile sarà da 30 giorni ma ne parlo lunedì perché ho anche un'idea differente su questa struttura ciclica e non voglio anticipare nulla parliamo dell'ultimo grafico che vi avevo fatto vedere cioè il primo che vi avevo fatto vedere l'ultimo che vi avevo promesso l'atteggiamento del touch di questo livello di eccesso di rialzo per quanto riguarda bitcoin è già avvenuto negli anni precedenti facciamo così non guardiamo il grafico guardiamo solo l'indicatore andiamoci a prendere la zona in cui è avvenuta e poi è stata ritracciata quindi è stato fatto un touch ritracciato né qui che come vedete è stato breccato e poi si è salito diciamo a botta neanche qui nel 2019 non è avvenuto neanche in questa struttura se non una piccola parte che è diciamo accaduta in questa zona il maggio 2017 e luglio 2017 e poi anche qui però vi faccio vedere la struttura anche in questo abbiamo un ribasso più pronunciato in questo caso perché siamo andati vicino gli 80 punti quando in queste zone diciamo il ribasso dal tocco di questo livello era stato un po' diciamo qui un po' più lento qui è stato un po' più pronunciato e anche qui un po' più pronunciato però venivamo dall'alto quindi non c'era un atteggiamento come qui che si veniva dal basso come è in questo contesto cioè non veniamo in questo contesto noi stiamo venendo dalla fase di bassista verso l'eccesso di euforia per quanto riguarda i mercati invece nel contesto del 2017 in queste due fasi noi venivamo dall'alto per rimbalzare quindi solo questa è quella che ha effettivamente un valore ed è stato fatto un ritracciamento più leggerino andiamo indietro nel tempo a vedere se effettivamente riusciamo a trovare invece una fase dove è avvenuto un ritracciamento che è durato qualcosina di più diciamo qualcosina diciamo a livello temporale migliore allora l'unico che ci dà questo segnale è quello del qui vabbè siamo nel 2011 non c'è proprio neanche era tutto per comprato abbiamo due zone questa essenzialmente nell'agosto del 2012 e poi questa zona qui che è similare nel 2013 è andata a fare diciamo questa fase e poi ha ritracciato tutta questa zona qui ora nel 2013 in pratica quello che noi abbiamo assistito c'era anche appunto questa qui che vi stavo dicendo poi nel 2012 partiamo con quella del 2012 che insomma è giustamente prima allora è arrivato in eccezzo e poi si è fermato per ritracciare ritornare in questa zona l'indicatore che cosa è successo in quella fase di mercato e dove eravamo a livello temporale allora intanto vi metto il grafico a chiusura così eliminiamo le oscillazioni poco utili in questo contesto in pratica è come se avessimo raggiunto un massimo intorno a questa fase di 273 giorni dopodiché il mercato si è leggermente fermato e però ha fatto un laterale e quindi questo è l'atteggiamento che potremmo magari vedere che configurerebbe l'atteggiamento migliore possibile cioè in realtà è un ribasso con un laterale in attesa che la media si avvicini e quindi gli indicatori di eccesso venissero riassorbiti completamente e questo è stato estremamente interessante molto in là 2012 quindi situazione completamente differente rispetto a a quella attuale ce n'è un altro però al di là di questo appunto del 2012 poi c'è stata anche qui nel 2013 il tentativo ma venivamo dall'alto invece è qui che c'è un tentativo molto similare che è simile a quello attuale cioè questa fase qui cioè la fase in cui noi abbiamo toccato venendo dal basso questa zona e poi abbiamo ritracciato ed è anche un po' più vicino a livello temporale per non essere così tanto distanti questa zona è esattamente coincidente con quello che è successo nel 2015 2017 ed ha avuto un massimo a 500 giorni circa dalla sua struttura di partenza per poi ritracciare per un tot di tempo ed andare in pratica a creare un laterale ribassista come il precedente poi breccato e nuovamente poi passato alla fase finale della bull run è come quindi se mancasse una fase temporale di riflessione che è durata in questo contesto addirittura 185 giorni 6 mesi quindi questo è giusto per farvi comprendere questo ragionamento andiamo a vedere il tempo dove siamo in questa fase per farvi vedere la linearità attuale e questo giochino che potrebbe in effetti andarsi a configurare siamo a 890 giorni 490 giorni scusate quindi quasi 500 giorni e nella stessa identica situazione quindi se dovesse andare a configurarsi una zona di laterale ribassista per far riassorbire questa indicazione potrebbe essere molto molto simile a quanto accaduto nella fase pre-bolla del 2017 pre-bull run del 2017 quindi va andare a creare una struttura del genere attenzione che c'era anche una differenza notevole nel 2017 in 2016 in questo caso eravamo a giugno in questo punto non avevamo ancora superato i massimi della precedente bull run in questo caso invece bitcoin è stato più forte e li ha superati seppur la differenza anche qui non era poi insomma tanta anche se in termini percentuali lo era perché eravamo troppo bassi quindi bitcoin mi pare che era il 40% inferiore quindi c'era una netta differenza in termini percentuali ecco vedete il 60% però c'era anche un'oscillazione paurosa rispetto all'attuale momento quindi essendo i prezzi estremamente piccoli quindi non possiamo andare insomma a fare il paragone ecco questo è sarebbe proprio errato farlo però per farvi capire anche come questa fase in teoria anche se fosse similare al 2017 2016 2017 è più forte al momento rispetto al al massimo precedente che era venuto nel 2021 detto questo valutiamo questa fase per i prossimi mesi noi ci riaggiorniamo alla fine di questa settimana importantissima la candela che bisogna andare a verificare cioè questa se si va a formare la evening star e se si andrà a formare appunto una evening star bisogna prestare molta attenzione alla prossima settimana ma siamo sul pezzo iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto lasciatemi mi piace come sempre noi ci rivediamo nel prossimo video e forza bitcoin secondo me spinge ancora ce la può fare vediamo per quanto tempo diciamo che siamo con i tempi risicati però ce la può fare ciao ragazzi grazie